Ciao a tutti amici di seblogappsblogspot.com come vi avevo promesso andiamo a vedere come sia possibile utilizzando AI Live Complete compilare dei progetti delle applicazioni più grosse di 5 MB ovviamente dovrete aver seguito il tutorial riguardante l'installazione di AI Live Complete deve essere ovviamente funzionante e dovete essere in grado di compilare i propri progetti altrimenti andate a rivedervi l'altro video e risolvete tutti i problemi prima di tornare alla visione di questo io qua ho già lanciato lo start AI server e anche il build server per questo tutorial il build server non ci interessa perché andremo a compilare i progetti in maniera leggermente diversa quindi lo possiamo chiudere ed andiamo in My Project io carico un progetto che ho già realizzato in precedenza che contiene tre file mp3 di cui detengo legalmente i diritti perché li ho acquistati e giusto per farvi vedere come eventualmente un'applicazione con tre canzoni e la cui somma delle dimensioni è maggiore di 5 MB possa comunque essere compilata con questa versione di App Inventor in locale come avrete probabilmente già visto quando provate a caricare troppi media non avete nessun errore potete anche aprire il Blox Editor e scaricare l'applicazione e testarla live da Blox Editor sul telefono ma quando provate a fare il package for phone per esempio Download to this computer vi esce un messaggio d'errore dove vi dice che purtroppo non si può fare il package di progetti più grossi di 5 MB e il mio attualmente è approssimativamente di 12 MB fortunatamente con queste semplici istruzioni che troviamo nella wiki e che comunque io vi facilito ancora di più le cose con un file già preparato ad hoc è possibile passare alla compilazione di questi file scusate un attimo mi sono perso ecco qua nelle facque dice come è possibile compilare apps che sono più larghe di 5 MB praticamente con uno script che assomiglia a quelli che abbiamo già visto in precedenza per lanciare la iLiveComplete non fa parte di questo pacchetto di installazione quindi lo dovete scaricare dal mio blog venire a trovarmi sul mio blog ed andare a cercarlo lì il file in questione è questo lasciamo questo nome e vado a copiarlo nella cartella importante che lo copiamo nella cartella iLiveComplete lo piazziamo nella stessa directory altrimenti avrete problemi con il path e non vi funzionerà ok quindi l'abbiamo copiato vi devo far vedere come funziona la struttura di questo file apritelo con WordPad Notepad non ve lo consiglio magari avete voi un altro editor come PSPad++ insomma ce ne sono vari disponibili freeware ed andiamo ad aprire appunto il nostro file che abbiamo detto sta in iLiveComplete 1.34 ovviamente dobbiamo mostrare tutti i file build server apk qua dobbiamo cambiare delle cose in base ai nostri progetti alle nostre necessità allora bisogna mettere il file sorgente zip quello che si scarica da My Project io preferisco crearmi una cartella non lo so tipo ai temp app inventor temporanea in C oppure potete crearne voi un'altra dove preferite fate attenzione che abbiate i permessi di scrivere su quella cartella perché per esempio su Windows 7 alcune cartelle non sono scrivibili diciamo poi qua set username mettiamo la nostra email anche se ovviamente non è obbligatoria questo è un discorso da fare eventualmente quando vogliamo caricare poi le nostre app sul Play Store e l'output dir è dove andrà a scrivere il nostro il nostro apk compilato tutto il resto non lo tocchiamo è il file cmd che ho modificato personalmente per creare questa diciamo per superare appunto la limitazione allora andiamo di nuovo in design editor quindi in My Project prendo il mio progetto e scarico il sorgente ok? andiamo a metterlo memorizzarlo quella directory non c'è ancora quindi la creo ok? quindi ai temp per esempio e vado a salvarlo qui dentro come vedete nella cartella ai temp ho questo file che è ben più grosso dei 5 mega massimi ammessi da App Inventor a questo punto ricontrollo vedete che il file mio è caitemp hugeproject.zip se il vostro progetto avrà un altro nome ovviamente dovete cambiare questo tutto il path e tutto quanto affinché sia corretto tutto il percorso torniamo in iLive Complete allora anche qui vi consiglio magari di fare un copia in colla ricordate che è meglio tenere spento il build server per avere più memoria disponibile nel vostro pc apriamo una finestra di DOS incolliamo il nostro path scusate con cd davanti in modo da posizionarci in questa cartella nel momento in cui andremo a lanciare il file build server apk seblogapps cmd cosa farà andrà a prendere come input ora qua è scorso ok come input file mi ha preso il mio hugeproject.zip username appunto la mail e la directory di output ora ovviamente a seconda della grandezza del progetto il tempo che ci metterà sarà variabile questo è un progetto appunto di 12 mega quindi ci metterà parecchio tempo dobbiamo armarci di pazienza ed aspettare che finisca la compilazione del nostro progetto ovviamente la velocità dipende da molti fattori come la ram del pc piuttosto che la potenza del processore la complessità del progetto eccetera il processo sta continuando siamo al 95% quindi direi che ci siamo quasi ancora qualche secondo di pazienza ed avremo il nostro file APK pronto per essere installato nel nostro telefono ed eventualmente in un secondo momento essere anche distribuito su Play Store come sempre consiglio di utilizzare programmi tipo marketizer o app to market per preparare la nostra app e per avere un supporto migliore alle varie risoluzioni ok siamo al 100% e come vedete se vado a vedere nella mia cartella ai temp che la troviamo qua secondo di pazienza che il pc si è un attimo rallentato ecco che andremo a trovare in ai temp il nostro APK compilato da 13 MB quindi ben più grosso della dimensione massima ammessa solitamente da App Inventor ovviamente è un po' scomodo dover scaricare la pickup e poi compilarlo in questa maniera ma attualmente questo è l'unico modo per superare la barriera dei 5 MB in compilazione se vi è piaciuto questo video venite a trovarmi sul canale youtube seblog2k iscrivetevi al mio canale fate il pollice in su al video condividete il video venite anche a trovarmi per ulteriori approfondimenti nel mio blog ufficiale seblogapps blogspot.com o .it fa lo stesso frequentate il forum fate un più uno su google plus e per ogni domanda utilizzate pure i commenti e tutti i canali che ormai conoscete a mena dito alla prossima spero che questo video vi sia piaciuto ciao